Sei ossessionata dal narcisista? Ne parli in continuazione e non fai altro che spiare tutti i suoi profili social? Lascia che ti spieghi 5 ragioni per cui questo accade e che ti dia poi 5 consigli per superare questo terribile momento. Ragione numero 1. Hai vissuto un qualcosa al di fuori del normale. Avere una relazione con un narcisista è più che altro una commedia dell'assurdo. Con molta probabilità la relazione è terminata e tu non hai più notizia di lui. E' stata scartata e sostituita con un'altra povera vittima che ancora non sa quello che gli spetta. Cerchi di trovare un filo logico in tutto quello che è successo, riunendo i pezzi del puzzle, ma non ci riesci. Sembra che la logicità in questa storia non ci sia mai mai stata. La ragione numero 2. Dopo tutti gli abusi subiti, molto probabilmente sei passata tu per sbagliata, per pazza, per folle e forse per carnefice. La rabbia che lascia essere accusati e diffamati per qualcosa che invece si è subito è veramente letale. La ragione numero 3. Vuoi parlarne con tante persone? È forte, forte sentore che nessuno ti capisce. Quando si ha a che fare con un narcisista purtroppo ti capisce soltanto chi ci è già passato. E molte persone non si rendono conto in che stato di devastazione ci si ritrova alla fine della relazione tossica. Ci si sente abbandonati, ci si sente traditi, ci si sente presi in giro, ingannati soprattutto. E cominciamo a nutrire dei forti sensi di colpa verso noi stessi che vengono addirittura acuiti dagli altri che ti dicono ma forse stai esagerando, insomma che non capiscono per niente quello che tu stai vivendo. La ragione numero 4 per cui si è ossessionati è che si ha un forte desiderio di vendetta o comunque di gridare al mondo il torto subito. Questo è senz'altro normale in un primo tempo perché il senso di ingiustizia è devastante. La ragione numero 5. Si cerca in tutti i modi di trovare una risposta logica andando a spiare il profilo dell'ex narcisista. Si spera di trovare, che ne so, la foto di un'altra donna oppure una ragione, una ragione concreta per la quale siete state lasciate, siete state scartate mi viene da dire. Ecco allora una lista di 5 consigli per cercare di superare al meglio questo momento da cui purtroppo non possiamo scappare. Numero 5. Fai una lista dei difetti del narcisista. Scrivi su un quaderno, su un foglio di carta, tutto ciò che di negativo ti ha fatto vivere. Questo è importante perché subito appena scartate tendiamo a dimenticare gli abusi subiti e ad avere una forte malinconia dei momenti belli passati insieme. Con il tempo capiremo che erano un'illusione purtroppo, però in quel momento non siamo abbastanza lucidi per comprenderlo e quindi è meglio abituare la testa e il cervello alle cose negative, ricordargliele. Consiglio numero 4. Riposati. Non ti sforzare a fare cose che non riesci. Io mi ricordo che non riuscivo nemmeno a guardare un film o a leggere un libro. Mancavo totalmente di concentrazione. Bene, è come essere stati investiti da un camion, quindi si ha bisogno di un periodo di convalescenza. Guardati tanti video su YouTube di tante persone che raccontano che cosa significa stare con un narcisista così che per fortuna ci si senta anche compresi. Se le persone ti forzano a voler uscire puoi rispondere di no. Hai bisogno di riposo. Prenditelo. Consiglio numero 3. Cerca di ritrovare gli affetti tuoi più cari. A causa del narcisista hai perso, che ne so, delle amiche o dei familiari perché come sappiamo una loro caratteristica è quella di isolarci. Bene, ritorna da queste persone. Chiedi se sono ancora disposte ad accettare la tua amicizia e ricomincia, ricostruisci un rapporto più solido rispetto a prima. Consiglio numero 2. Modifica l'ambiente dove sei. A me ha aiutato tantissimo spostare i mobili, cambiare il colore delle pareti, regalare tanti vestiti e tanti oggetti che non utilizzavo più. Creare spazio, spazio per delle cose nuove. E infine, consiglio numero 1. Chiedi aiuto ad un esperto, uno psicologo, una psicologa, un qualcuno che possa darti gli strumenti per riprendere in mano la tua vita. Non è solo importante, è fondamentale. E soprattutto, abbi fede. Il dolore passa, si può e si deve tornare a splendere. E quindi, daglie tutta, in bocca al lupo, e fatemi sapere di voi sotto nei commenti. Un abbraccio. Un abbraccio. Un abbraccio. Un abbraccio. Grazie a tutti.